Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi Ecco, questa è una fotografia di Federico Tozzi che adesso, come vedremo, è morto giovane è morto a 37 anni di una polmonite improvvisa era nato a Siena nel 1883 presto era andato in conflitto col padre uomo autoritario e violento però aveva appunto come mediatrice la madre che però poi è morta quando lui aveva solamente 12 anni come vedremo e quindi questo contrasto col padre si è acuito ancora di più ha compiuto studi irregolari poi nel 1900 si è iscritto al Partito Socialista Italiano ma dopo è seguita una conversione religiosa e la collaborazione con il giornale reazionario La Torre nel 1914 la svolta della sua vita sceglie di dedicarsi alla narrativa lascia il podere di Castagneto e va a vivere a Roma dove, come abbiamo spiegato, muore nel 1920 per una violenta polmonite a soli 37 anni nel frattempo a Roma comunque aveva avuto tempo per conoscere artisti, pittori, scrittori e durante la Prima Guerra Mondiale era, diciamo, aiutava la Croce Rossa le opere le opere di Federico Tozzi sono state pubblicate tardi Federico Colaccia sono state pubblicate tardi a volte postume ecco, ricordiamo fra le varie opere di Tozzi Bestie che è una raccolta di brevi prose non narrative accomunate dalla presenza di un animale poi il nostro romanzo di cui parleremo oggi cioè Con gli occhi chiusi pubblicato nel 1919 pur essendo finito nel 1915 quindi un anno prima della morte Tre Croci e il Podere più o meno l'anno in cui è morto o l'anno seguente Gli Egoisti e Ricordi di un Impiegato pubblicati postumi I Ricordi di un Impiegato sono una sorta di narrazione autobiografica di quando lui appunto faceva questo lavoro e quindi sono stati un testo un po' attormentato perché lui l'ha visto e rivisto più e più volte e non ha fatto in tempo come abbiamo detto a vederlo lui pubblicato spesso gran parte dei testi di Tozzi sono stati pubblicati o raccolti dal figlio di Tozzi Il percorso di Tozzi va da un frammentismo enigmatico come quello di Bestie alla riscoperta del romanzo una riscoperta però completamente originale nuova, innovativa, novecentesca in esso si sperimenta una scrittura deformante espressionistica non piacevole non agevole soprattutto non scontata e che non segue quelli che sono i gusti del pubblico che a partire da spunti autobiografici mette in luce i temi dell'inettitudine dell'inconscio con le sue forze oscure della frantumazione dell'esperienza e di fatti a questo proposito dobbiamo dire che Federico Tozzi si pone a un livello altissimo in quella fascia possiamo dire di grandi narratori di grandi scrittori che sono stati così sintetizzati da Carlo Salinari quelli che avevano la coscienza la consapevolezza e infatti in quel saggio famoso Salinari contrappone i miti del decadentismo italiano quali sono appunto quelli del fanciullino di Pascoli oppure dell'esteta di D'Annunzio oppure il santo di Fogazzaro con la coscienza del decadentismo italiano rappresentata dai capolavori dei tre grandi Svevo Pirandello e appunto Tozzi per non parlare di Giacomo De Benedetti che ha fatto conoscere al pubblico ha apprezzato tantissimo l'opera di Federico Tozzi e ci ha aiutato a capire anche il titolo un po' enigmatico di questo romanzo con gli occhi chiusi che non è qualcosa di banale di chi non ci vede bene ma è proprio un simbolo molto importante di quello che è l'incapacità di affrontare la realtà di aprire gli occhi di fronte alla realtà tipica dell'uomo moderno contemporaneo e quindi fortemente autobiografica anche perché comunque l'esperienza l'esistenza di Federico Tozzi è stata un'esistenza piuttosto attormentata ecco dicevamo che questo libro è stato scritto nel corso di parecchi anni forse a partire addirittura dal 1911 non oltre comunque il 1915 eppure fu pubblicato solamente nel 1919 però fu pubblicato da Treves che era un editore importante dell'epoca ecco che il testo ebbe anche una recensione incoraggiante da parte di Pirandello e poi come abbiamo già spiegato elogiato da De Benedetti ma anche da Borgese purtroppo però malgrado questo favore della critica il libro non ebbe un grande successo di pubblico con gli occhi chiusi è il più autobiografico dei suoi romanzi anche se un altro romanzo che noi abbiamo già letto e sul quale faremo un contributo Il Podere del 1921 cioè pubblicato dopo la sua morte anche questo ha degli aspetti autobiografici e richiama un po' anche i primi capitoli di con gli occhi chiusi che sono ambientati per lo più anche questi in un podere mentre il romanzo Le tre croci è diverso e tragico quasi inquietante da tutti considerato il capolavoro di Tozzi almeno accanto a con gli occhi chiusi quali sono i personaggi principali di con gli occhi chiusi e quali sono le corrispondenze biografiche ogni personaggio corrisponde ad una persona ben precisa che ha avuto a che fare con Federico Tozzi Pietro Rosi anzitutto è il personaggio più autobiografico di tutti nel senso che è la trasposizione sulla carta dell'autore stesso dello scrittore stesso di Federico Tozzi Federico Tozzi figlio perché anche suo padre si chiamava così e che ha dei tratti in comune l'abbiamo già anticipato con il protagonista del podere che è Remigio Selmi il padre di Pietro Rosi è Domenico Rosi il padrone della trattoria il pesce azzurro ebbene questo padre di Pietro ha tratti molto 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 simili al padre di Federico il padre di Federico veniva chiamato a Siena Ghigo del Sasso in realtà Ghigo però è diminutivo di Federico e infatti come abbiamo spiegato anche il padre di Federico Tozzi si chiamava Federico Tozzi Federico Tozzi padre chiamiamolo così probabilmente ha dato al figlio il suo stesso nome perché voleva aveva il desiderio che suo figlio seguisse le sue orme esattamente come anche Domenico Rosi vuole che il figlio segua le sue orme cioè che diventassero questi figli padroni della trattoria e dei poderi conquistati dopo un'ascesa sociale piuttosto considerevole diciamo ecco dicevamo che Ghigo del Sasso veniva chiamato così perché era il padrone a sua volta di una locanda che si chiamava il Sasso all'arco dei Rossi a Siena morì il padre di Federico Tozzi nel 1908 scusate se intrecciamo le storie magari crediamo anche delle confusioni però è una cosa voluta desiderata dall'autore stesso che ha voluto mettere sulla carta essenzialmente la sua esperienza Anna la madre di Pietro Rosi soffre di convulsione per in molti parti ed è tradita dal marito in casa esattamente come la madre di Federico Annunziata morta quando lui come abbiamo detto prima aveva appena 12 anni si tratta di donne del popolo si dice appunto che Annunziata fosse figlia dell'ospedale quindi una trovatella possiamo dire molto bella però diventa la moglie appunto del padre di Federico Tozzi e poi muore muore giovane come abbiamo spiegato prima e più o meno il ruolo che che svolge Anna la madre di Pietro Rosi è lo stesso ruolo che aveva svolto effettivamente la madre di Federico nella vita di Federico una sorta di mediatrice che aveva cercato di attutire gli screzzi le incomprensioni tra padre e figlio fino a quando ha potuto fino a quando è rimasta viva appunto Ghisola è l'altra importante protagonista accanto a Pietro del e a Domenico senz'altro del romanzo con gli occhi chiusi Ghisola è figlia di Rebecca che è la cameriera di Anna la cameriera della padrona ed è nipote di Giacco e di Masa che sono il padre e la madre di Anna che sono assalariati nel podere di Poggio Ameli subito fuori da Porta Camollia a Siena quindi in buona sostanza la gran parte del tempo Ghisola la passa al podere e quindi presso i nonni appunto presso Giacco e Masa ebbene questo personaggio di questa ragazza che poi cresce diventa una bella giovane è un personaggio la trasposizione sulla carta di un personaggio di una ragazza di una donna che è Federico Tozia Amato che si chiamava Isola un nome piuttosto comune in Toscana giovane contadina amata da Federico anche se alcuni studiosi hanno intravisto in alcuni tratti insomma di Ghisola anche aspetti di altre donne della vita di Federico Tozzi compresa la stessa moglie Emma donna conosciuta tramite un'inserzione sul giornale che diventa moglie di Federico Tozzi due settimane dopo la morte del padre perché il padre abbiamo detto Ghigo del Sasso osteggiava violentemente il matrimonio quindi quando morì il padre subito Federico la sposò ma questo matrimonio non fu comunque del tutto felice poi attorno a questi che sono i personaggi principali ruotano altri personaggi come per esempio gli avventori dell'osteria del padre oppure i contadini del podere oppure giovani ragazzi coetanei di Pietro come Antonio ed Agostino rivali di Federico in amore nel senso che anche a loro piaceva questa ragazza Ghisola che però poi dopo non non corrisponde insomma alle avanza di questi altri ragazzi tanto meno di Pietro perché Pietro fra tutti questi probabilmente è più inetto è più remissivo e più introverso ecco vorrei adesso però dedicare una slide e quindi una parte di questo contributo alla riflessione sulla lingua usata da Federico Tozzi perché in questa lingua sono presenti espressioni tipiche toscane oppure proprio sinceramente dialettali soprattutto del del senese insomma ad esempio a un certo punto Masa che è la nonna di Ghisola vede che lei non si vuole svegliare e allora cerca di scuoterla e le chiede vuoi fare i gestri cioè vuoi fare qualcosa fra gesti e destri cioè vuoi fare la smorfiosa vuoi fare le smancerie insomma cerca di di scuoterla appena può Masa ma lei cioè Ghisola risponde con uno sgorgoglio altro toscanismo dialettismo che corrisponde in italiano più o meno un borbottio oppure altre espressioni come ti inghebbi che vuol dire ti abbuffi doventare il verbo invece del verbo diventare in tutta quanta la coniugazione doventi eccetera oppure compicciare invece di combinare concludere cioè quando a un certo punto del romanzo si dice che non riesce a compicciare a combinare a concludere nulla Castrino è una variante toscana del ruolo di castratore si trattava di uno che andava in giro per le campagne a castrare gli animali lo scopo è quello di rendere gli animali più grassi e Domenico Rosi cioè il papà di Pietro vuole far castrare tutti quanti i suoi animali così diventano più grassi e vuole pagare anche poco il castrino cioè il castratore a un certo punto appunto c'è questa scena di questo castratore di galline di vitelli che però si focalizza quando il castratore va a castrare un gatto e lì c'è proprio la descrizione anche cruda se vogliamo violenta di questo atto della castrazione Pietro osserva allibito la scena mentre suo padre Domenico è inorgoglito e divertito da questa scena così violenta si tratta evidentemente di una scena simbolica perché Pietro abbiamo già detto è quello che non vede la realtà che non è capace di affrontarla quindi la realtà ed è anche castrato nel senso che suo padre aveva già previsto per lui un avvenire di oste di trattore così lo chiamano lì il proprietario della trattoria così veniva chiamato Domenico mentre invece Pietro è tutt'altro rispetto a quelli che erano i progetti del padre e quindi quelli che erano invece i suoi progetti i progetti di Pietro ad esempio quelli di studiare questi vengono tutti quanti compressi impediti dal padre che quindi in un certo senso castra materialmente i suoi animali e diciamo psicologicamente suo figlio gli animali castrati in Toscano vengono chiamati vengono chiamati accapponati oppure l'etame viene chiamato concio giusto per darvi qualche esempio di questa lingua toscana ecco stavamo dicendo della lunga stesura di questo romanzo che termina intorno all'anno 1915 evidenti le influenze di Kafka e di Pirandello abbiamo detto che Tozzi si dichiara cattolico anche fa il giornalista abbiamo detto su una rivista cattolica ma il suo cattolicesimo non ha niente di confessionale il dio di Tozzi è un padre terribile che un po' fa venire in mente la figura del padre biografico abbiamo parlato prima di Kafka ci viene in mente la lettera al padre di Kafka come il padre incombe minaccioso il dio di Tozzi i preti e la chiesa sono irrimediabilmente antipatici anche in questo romanzo la vita resta quindi un mistero sostanzialmente profondamente incomprensibile anche se la materia narrativa è la stessa dei romanzi veristi cioè il mondo contadino il podere siamo in realtà agli antipodi del naturalismo il naturalismo è per quanto possibile il più possibile oggettivo e impersonale al contrario invece la visione di Tozzi è soggettiva deformante onirica Tozzi purtuttavia resta lontano dall'analisi freudiana che possiamo intravedere in alcuni romanzi di Svevo anche se in forma spesso critica l'analisi freudiana tende a interpretare i fatti psichici Tozzi invece accosta i fatti psichici in modo paratattico alla narrazione principale cioè vuol dire ce li mette lì uno dopo l'altro senza trovare dei nessi delle connessioni fra un pensiero e un altro semplicemente registrando gli stati d'animo dei personaggi lascia quindi al lettore l'interpretazione ecco l'inizio della trama di con gli occhi chiusi pietro rose è il figlio unico di un uomo domenico esuberante aggressivo il padre padrone proprietario di una trattoria a siena e di un podere abbiamo detto appena fuori città sin dall'infanzia egli prova un sentimento contrastante di odio e di amore per ghisola spesso si fanno dei dispetti infatti questi due giovani ragazzi però si cercano sempre ghisola è figlia e nipote di contadini che lavorano al podere nipote di giacco e di masa e figlia di rebecca che abbiamo detto che è la cameriera della padrona insomma di anna ma per la sua insicurezza per l'insicurezza di pietro è così lui non arriva mai ad instaurare una relazione duratura con la ragazza del resto anche domenico contribuisce a sminuirlo davanti a lei pietro infatti non risponde minimamente ai suoi progetti preferisce studiare sia pure con risultati disastrosi e questo ci fa venire in mente un po' anche la biografia di federico tozzi perché come abbiamo detto anche i suoi studi furono attormentati pietro si mostra debole e inetto mentre anna la madre cerca debolmente di difenderlo ma non ci riesce dopo la morte di lei pietro ha 16 anni si sforza di affermare la propria identità proprio per questo si iscrive al partito socialista italiano ecco come abbiamo detto ci sono delle corrispondenze biografiche anche se non perfette perché abbiamo detto che la morte della madre avviene quando federico tozzi ha 12 anni invece il protagonista del romanzo dei cogliocchi chiusi la perde a 16 anni e poi insomma più o meno gli anni sono quelli comunque perché abbiamo detto che effettivamente federico tozzi si è iscritto al partito socialista italiano a 17 anni ecco adesso l'ultima slide ma prima di arrivare all'ultima slide devo dire che nell'ultima slide vi spiegherò come termina il romanzo per cui se avete visto questo video o avete ascoltato l'audio per avere degli spunti per scegliere un libro da leggere potete anche fermarvi qua se invece volete potete finire di vedere il video o ascoltare l'audio con l'ultima slide ebbene c'è una specie di ellissi cioè da quando lui ha questi 14 anni circa no e quindi passa questi tutto questo tempo al podere dove c'è appunto Ghisola la contadina poi passano parecchi anni in cui Pietro non vede Ghisola quasi per niente e Ghisola ovviamente adesso lui ha 19 anni più o meno sono coetanei i due Ghisola ha fatto parecchie esperienze è diventata grande bella molto più bella di quando era una ragazzina molto furba anche per esempio approfitta della protezione di alcuni uomini per andare a vivere presso di loro ecco qui nell'ultima parte possiamo dire del romanzo lo sfondo ambientale cambia radicalmente i due infatti si incontrano innanzitutto a Firenze dove Pietro è andato per studiare prima ha visto in una fotografia come è cresciuta Ghisola poi la vede di persona si innamora pazzamente in un modo molto sentimentale e romantico di lei anche se lei insomma probabilmente non merita tutto questo romanticismo l'amore di Pietro per Ghisola resta astratto e idealizzato lui non si rende nemmeno conto che la ragazza ha degli amanti e riveste di altezze poetiche una donna in realtà molto carnale un po' come accade all'angiolina Zarri di Senilità di Italo Svevo nel frattempo Ghisola cerca di sfruttare la situazione tra l'altro anche un piccolo sogno nel cassetto cioè quello di diventare la moglie del figlio del padrone in modo da ribaltare la situazione sociale che l'aveva vista appunto come avevo detto in un primo tempo subordinata rispetto a Pietro dopo aver scoperto di essere incinta ovviamente non di Pietro perché abbiamo detto che aveva avuto e continuava ad avere rapporti con molti uomini Ghisola ottiene da Pietro la promessa di matrimonio tra l'altro proprio uno di quegli uomini che la corteggiavano che la mantenevano eccetera aveva probabilmente questo progetto no? di scaricare Ghisola a Pietro e viene in mente insomma questa idea cioè di dare a a Pietro la colpa di questa di questo concepimento infatti lei cioè Ghisola cerca di indurlo a un rapporto sessuale per potergli attribuire la paternità del bambino ma Pietro rifiuta in nome della castità prima delle nozze e dice potremmo unirci dopo il matrimonio a questo punto c'è l'epilogo del romanzo lui arriva un po' come lo stesso Emilio Brentani in Senilità di Italo Svevo lui arriva a capire come stanno realmente le cose quando vede Ghisola in un bordello situazioni abbastanza simili non perfettamente simili anche in quell'altro romanzo di Italo Svevo cioè qualcuno gli mette la pulce nell'orecchio e lo induce a fare una specie di indagine e lui effettivamente va in questo bordello e scopre che lei Ghisola è una delle donne di questo di questo bordello lei è finita lì per la miseria perché insomma comunque faceva comunque fatica a procurarsi da vivere è ormai prossima al parto e quindi diciamo che la pancia è pronunciata quindi si vede chiaramente che sta aspettando il bambino un bambino lui è profondamente deluso da questa scena lei non è riuscita a nascondersi e quindi il romanzo termina bruscamente con queste due righe quando si riebbe dalla vertigine violenta che l'aveva abbattuto ai piedi di Ghisola egli non l'amava più ecco qui condensata un'esperienza che poi abbiamo già detto un'esperienza l'abbiamo detto ampiamente un'esperienza autobiografica che forse la sintesi di quella che è stata appunto dicevamo una delle esperienze più importanti della vita di Federico Tozzi da mettersi alle spalle perché appunto così come era stato era stata forte la passione il sentimento romantico ecco di amore nei confronti di Ghisola così il disincanto la disillusione è forte e da quel momento in poi lui non l'amava più quindi è una storia chiusa è una storia finita per sempre la vita di Federico quando avrà anche lui le sue prime delusioni amorose continuerà non in modo così comunque felice e compiuto come abbiamo sintetizzato sta di fatto che questo romanzo è sicuramente uno dei testi più importanti della narrativa del primo novecento e quest'autore come dimostreremo anche con gli altri contributi che daremo sugli altri bellissimi romanzi di Federico Tozzi il podere e le tre croci è un autore da rivalutare da considerare come uno degli autori più importanti per capire una svolta che c'è stata all'inizio del novecento nella narrativa italiana uno degli autori infatti potremmo dire in un certo senso più europeo della nostra storia della letteratura del novecento altri video didattici su a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it